La settimana che porta alla sfida tra Cosenza e Catania è iniziata solo ieri, ma da entrambe le parti c'è già tanta carne al fuoco non solo per le questioni legate al campo. In casa Cosenza i problemi di classifica sono estremamente pesanti nonostante la grande campagna acquisti estiva e questa porta ad una crisi inattesa che ieri ha dato vita all'esonero del tecnico Fontana. Di sicuro quindi questa rappresenta un'arma a doppio taglio per il Catania che sabato si troverà davanti una formazione in forte difficoltà psicologica ma che al tempo stesso cercherà la scossa per il cambio di panchina. In casa Rossazzurri invece la squadra non potrebbe andare meglio ma c'è il problema stadio da risolvere dopo le controverse nate con il comune nei giorni scorsi. La sensazione è che il tira e molla durerà ancora per qualche tempo ma resta fondamentale dare alla squadra la possibilità di lavorare con la massima serenità per continuare a volare verso la vetta della classifica. Ed è anche in quest'ottica che la società ha organizzato la seduta dall'elemento di oggi a porte aperte davanti ai tifosi rossazzurri che hanno portato a circa 6.000 la quota abbonati. Un numero importantissimo soprattutto per la Serie C dove adesso il Catania sembra davvero la formazione da battere a maggior ragione quello visto nelle ultime tre giornate. Testa dunque all'unici da schierare a Cosenza dove è probabile che vengano confermati quasi tutti i titolari scesi in campo contro l'Andria. Corripa che però scalpita per scalzare Curiali in attacco dove potrebbe giocare al fianco di Lussotto.